E' stata una scoperta casuale perché proprio alla ricerca di spazi per il coro dei cantori di Marostica si è visto così quasi per caso una testa che appariva all'interno delle pareti grigie. Quella testa che appariva dietro le pareti grigie dell'oratorio della chiesa dei Carmini di Marostica era di San Simone. Sotto le pareti di quello che era diventato un deposito di materiali vari si nascondeva un ciclo di tempere murali della metà del 1600 un autentico gioiello riportato alla luce dopo secoli forse di oblio al termine di un lavoro paziente, accurato, delicatissimo. Totto il primo strato di vernice gialla, un ulteriore strato di pittura giallocra ed un terzo strato di calce ed ecco cos'è apparso. Sul soffitto una volta stellata, il Cristo e i quattro evangelisti la Madonna con San Simone e San Girolamo della cui biografia sono raffigurati episodi significativi sulle pareti laterali sotto i ritratti dei dodici discepoli. Ma chi e per quale motivo un giorno può avere deciso di coprire questo ciclo di tempere murali? Si può pensare per esempio allo strato di calce, non so, in coincidenza di una epidemia. Potrebbe essere stata una pestilenza, perché magari si è deciso che questo ambiente, che è abbastanza capiente, potesse essere, non so, quasi un tipo un lazzaretto. Il restauro sarà terminato presumibilmente con la fine dell'estate. L'oratorio sarà sede di prove e concerti, ma sarà anche visitabile al pubblico. Tutta la città infatti in questi anni si è mobilitata per raccogliere fondi per il restauro.